Sono Ronny Pizzo e sono creatore del marchio Rock Burger, quindi un'attività, come dice il nome, hamburger a tema rock. Hai trovato degli spunti durante questo corso, qualcosa già da applicare nella tua attività? Assolutamente sì, spunti diretti, esercizi diretti da applicare da domani, direttamente. Ottimo, ancora una domanda, consiglieresti questo corso ai tuoi colleghi ristoratori? Beh, colleghi ristoratori sì, ai competitor magari no, perché così guadagno del tempo. Grazie a tutti.